avevamo apprezzato silvana de mari per le posizioni avute durante l'ultimo triennio l'avevamo lasciata con il suo annuncio di voler votare per fratelli d'italia e ogni settimana fa un intervento sulla verità nelle ultime settimane sta esprimendo la sua chiara posizione al fianco di israele ad esempio nel suo articolo di oggi se la prende con l'occidente che tifa per hamas che è lo stesso che si odia da decenni sentite un po cosa scrive silvana de mari guardati da chi accende il fuoco e grida poi contro le fiamme dice il proverbio eppure alcune frange parteggiano in modo esplicito e acritico per hamas un'organizzazione che tra i suoi obiettivi la distruzione di israele non si sa bene chi sia che parteggi per hamas perché è un odio a sé che a tratti caratterizza l'occidente e assume tratti grotteschi dovrebbe essere una banalità eppure viene puntualmente dimenticato hamas attaccato israele ha rapito ostaggi e continua a lanciare missili i miliziani di hamas hanno ucciso i neonati nelle culle mozzato mani e piedi agli anziani hanno bruciato vive delle persone il cadavere di un padre quello del suo bambino che l'uomo continuava a tenere in braccia per proteggerlo sono fusi insieme dal fuoco che gli ha distrutti tutte queste azioni sono contemplate nel curano un bambino può essere ucciso se si è certi che restando in vita diventerebbe un infedele a chi si oppone all'islam devono essere tagliate gambe e braccia deve essere bruciato hanno rapito ostaggi civili che lo stato di israele deve assolutamente recuperare l'azione è stata compiuta con una tale ferocia da rendere impensabile che israele non attacchi l'attacco non ha come scopo la rappresaglia ma due obiettivi recuperare gli ostaggi e far cessare il lancio dei missili tutto quello che sta succedendo a gaza cesserebbe immediatamente se gli ostaggi fossero restituiti e i lanci di missili bloccati figuriamoci i bambini israeliani sono messi sullo stesso piano numerico di quelli palestinesi che sono di più quindi gli israeliani sono i più cattivi il paragone non vale dice silvana de mari gli israeliani non possono permettere che i cittadini israeliani restino in mano a damas viste anche le torture inflitte e civili uccisi in israele e israele non può permettere che gli lancino dei razzi nella travagliata storia di israele ci sono state scolaresche in gita scolastica massacrate bambini sgozzati sotto gli occhi dei genitori bus scolastici fatti saltare ricostruisce tutti gli episodi giulio meotti nel libro noi non smetteremo di danzare quindi fiumi di voci si stanno alzando per chiedere a damas di fermarsi certamente no israele accusata di aver inventato tutto per poter attaccare amass israele stava cercando di arrivare alla pace mediante una serie di trattati con l'arabia saudita netanyahu con grandissima ingenuità nell'idea di una possibile tregua con amass ha allentato i controlli permesso che i fiumi di denaro arrivassero sulla striscia e che un fiume di cittadini di amass uscisse dalla striscia per lavorare in israele tutto questo mentre israele continua a dare acqua ed elettricità e cibo a gaza perché gaza non ha mai usato i fiumi di denaro che riceve per irrigare desalinizzare fare una centrale elettrica gaza ha usato un enorme fiume di denaro per la guerra guerra che è un disastro per israele che rimette a massa al centro del cuore degli islamici e destabilizza tutto il mondo occidentale in sudafrica la pressione internazionale ha avuto una fondamentale importanza per la caduta dell'apartheid che grazie a quella pressione è caduto senza una guerra civile per decenni le ambasciate del sudafrica sono state circondate da civilissime persone con fioghi lumini che hanno protestato da quando la barbarie islamica ha cominciato a flagellare il mondo nessuno ha protestato i due primi segni sono stati il terrorismo palestinese e la condanna morte di salman rashti da parte di comeini se avessimo sommerso il mondo di indignazione la violenza si sarebbe fermata noi che stiamo in silenzio quando va bene ci schieghiamo con gli aggressori negli altri casi perché perché i sudafricani bianchi erano per l'appunto bianchi occidentali dell'emisfero australe noi abbiamo interiorizzato lo schema che sempre quando un occidentale in disaccordo con un non occidentale questo configura il crimine di razzismo la demaghi continua neghiamo davanti a ogni evidenza l'orrore del terrorismo islamico delle mutilazioni sessuali della protervia contro gli intellettuali dell'odio forzennato della sciagurata condizione femminile gli arabi uccidevano ebrei prima della nascita di israele sostiene la demaghi una lettura deformata dei fatti una lettura deformata dei fatti sentite bene porta all'accusa dello stato sionista creato da potenze occidentali e usa per levarsi gli ebrei di torno e per i sensi di colpa seguiti dalla shoah all'europa gli stati uniti dice la demaghi mai è venuto in mente di muovere un dito per gli ebrei gli usa hanno osteggiato la nascita dello stato di israele la potentissima lobby dei petrolieri statunitensi è sempre stata anti israeliana per evitare di nimicarsi con conseguente aumento del greggio i grandi produttori di petrolio gli usa non hanno nemmeno riconosciuto israele alla sua nascita la lobby del petrolio impedì a truman di farlo solo con churchill vecchio e ormai senza alcun potere parlò in favore dell'esistenza dello stato di israele la nascita di israele non fu dovuta alla benevolenza nei suoi confronti degli europei per compensare la shoah la benevolenza degli stati europei era zero e della shoah non fregava niente a nessuno de gaulle non voleva nemmeno sentirne parlare se questo è un uomo il libro di primo levi che racconta il lager fu rifiutato dalle inaudi esattamente come i libri analoghi furono rifiutati da altri editori fu solo negli anni 50 e 60 quando l'urso dovette spostare l'attenzione dai suoi gulag e dallo stalinismo che si scoprì la shoah piangere la shoah tanto non era un problema ormai erano morti permetteva inoltre di aggredire israele che invece proteggeva ebrei vivi evitando l'accusa di antisemitismo la shoah inoltre permise permette di separare ebrei per bene quelli in coda davanti alle camera gas con i loro bambini che ci hanno dato la possibilità di fare tanti bei film ed ebrei cattivi quelli che i loro figli li difendono a mitragliate inoltre questa fantastica metastoria dice la de mari trasforma israele in uno stato coloniale uno stato quindi formato da una madre patria occidentale che sposta i suoi cittadini sul luogo non occidentale li difende a cannonate quale sarebbe l'esercito occidentale che ha combattuto nel 48 per israele i nazistici spiegano sono il male assoluto benissimo allora onore israele al valore della brigata ebraica 60.000 uomini su una popolazione di mezzo milione di abitanti un israeliano su 10 calcolando anche donne vecchie e bambini un israeliano su tre calcolando solo gli uomini validi che ha combattuto contro il nazifascismo i palestinesi hanno combattuto con il nazifascismo senza il gran mufti di gerusalemme non sarebbe esistita la divisione ss musulmana la tredicesima alle parate del 25 aprile le bandiere della brigata ebraica sono bruciate quelle palestinesi del gran mufti sventolate perché gli antifascisti militanti amano il saluto nazista quando lo fanno craini e palestinesi perché le persone pensano che miliziani ufficialmente nazisti non possano distruggere intenzionalmente un ospedale questa è la provocazione con cui la de mari chiude questo articolo l'occidente che odia se stesso e tifa per hamas secondo lei gli integralisti hanno seminato terrore in israele e continuano a bersagliarlo eppure da noi c'è chi sta dalla loro parte l'ennesimo frutto del terzo mondismo che considera l'uomo bianco la causa di tutti i mali ed esalta le altre culture anche quando sono aberranti questo una silvana dei mari dunque che si schiera apertamente in modo forte a suo modo e completamente con israele e avete anche sentito come ricostruisce tutto quello che si è detto e si dice sulla nascita dello stato di israele e del cosiddetto sionismo